Allora, questa è la situazione di Enna, ma noi siamo rimasti, anzi siamo andati in Sicilia anche con Cinzia Cubini, che saluto Cinzia, buongiorno. Tu sei a Butera, siamo vicino a Caltanissetta, sei, e poi confermacelo, in un'azienda che quest'anno ha perso buona parte del raccolto d'uva, ma è più in generale del proprio raccolto, credo raccolto di frutta, proprio a causa della siccità. Vengo da voi. Sì, Roberto, buongiorno. Noi ci troviamo in una delle zone più siccitose della Sicilia, siamo in provincia di Caltanissetta, come ci sono Rosalba Migliore della Confederazione Italiana Agricoltori e Matteo De Biglio, che è il padrone di questa azienda agricola, dove stanno vendemmiando. Siamo stati fortunati perché questo è proprio l'ultimo giorno di vendemmia e siamo in grado di farvi vedere com'è un vitigno che ha tanta, tanta sete. Guardate, guardate questo raspo, come è ridotto. Matteo, che cosa è successo? Niente, con la forte siccità le piante non hanno reagito come dovrebbero reagire e si sono fatti dei tracci non più di 50 centimetri. L'uva purtroppo ad agosto, luglio e agosto, con un forte caldo, è seccata sulla pianta. Cioè una combinazione micidiale di siccità e temperature estreme? Molto estreme, perfetto, molto caldo. E non si poteva in qualche modo irrigare? No, perché i pozzi che abbiamo, l'acqua si è prosciugata, abbiamo provato a scavare altri pozzi, ma l'acqua qui sotto non esiste più, perché non piove da più di un anno, circa di un anno e mezzo, e non c'è più risorse di acqua per irrigare le piante. Qui, Roberto, intanto chiedo a Giancarlo di farci vedere questo vigneto. Si ricordano addirittura l'ultimo giorno che è piovuto, era il 30 maggio... 2023. Poi c'è stato un evento estremo di pioggia inizio agosto, ma qui non è cambiato nulla. Ad agosto non è nemmeno caduto il 20 mm circa di acqua, perché nelle altre parti è arrivata qualche bomba d'acqua, ma qua non abbiamo visto acqua. Vi faccio vedere la macchina per la vendemmia che sta intanto lavorando, e ti chiedo una cosa Matteo, anche se mi rendo conto che per te non è una domanda bella, ma quanto stai perdendo? Ma circa dai 70 quintali a ettaro stiamo perdendo, come uva, come di produzione economica, si sta perdendo intorno ai 3.000 ai 4.000 euro a ettaro. Quindi significa per te, per la tua azienda... Per una azienda che è circa 80 ettari solo di vigneto si sta perdendo un 300.000 euro. Bene, Roberto, ti restituisco la linea per ora. Solamente questa azienda a causa della siccità perde 200.000 euro quest'anno, insomma, per un'azienda ovviamente è un fatturato chiaramente importante, insomma, che peraltro dà da mangiare, suppongo, a molte persone. Detto questo, Professor Mercalli...